Giorni insieme a me e dai tuoi ma soli siamo noi in questa notte quando ormai l'ombra fugge già fra neutri e neri e poi chissà Volteggio con un tutù che non mi dona il rosa pallido del tulle e le scarpette bianche seguendo mellifra, sdolcinata, sviolinata oh com'è bello il ballo del mio cigno intanto il vento di ponente ha sbrindellato stoppini a maschere sconvolge e ricompone, superbo, nel moto andante maestoso si pari nuvole di stelle e di galassie ho smesso ad essere clessidra per indicare l'ora di un cucù ma che spettacolo scusate prendiamoci due minuti per osservare questo fantastico quadro firmato Arianna Edran mamma mia un altro applauso ragazzi perché questo non era soltanto una sfilata ma era anche uno spettacolo allora ragazzi ok potete sciogliere vedo iniziare a tremare le braccia allora se vogliamo spostarci sul fondo noi ragazzi invece naturalmente Chiara Pavoni rimane qua al centro con me una fantastica attrice che ha collaborato a questa sfilata complimenti devo dire veramente molto bello ci risveglieremo un po' confusi nel prima con il poi avvinti e tu 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 mi inviterai in fine mia al brivido più lungo grazie a tutti